Finalmente il Pokémon più bello di sempre è arrivato! I Pokémon ci seguono! Si può giocare insieme! Cosa volete di più? Ma qui le cose si fanno a serie! Una fianco all'altro! Attenzione! Io sono prontissima! E ragazzi, come va? Io sono Fiorinichi! Io sono Stefano e qui si aggiunge con me a Monster Park! E oggi siamo qui col gioco più chiesto in assoluto nel nostro canale! Perché siete già da un mesetto circa che ci spammate assolutamente nei commenti di provare questo gioco! Quindi oggi ci siamo finalmente decisi a farci un video! Esattamente! Però fermo subito tutto! Sondaggio fin dall'inizio ragazzi! Stiamo facendo un solo episodio! Se questo video farà tanti views, vi piacerà tanto, lo voterete tanto nel sondaggio, tanti likes, bla bla bla! Faremo una serie in live! Perché in live? Perché così potrete giocare insieme a noi! Dato che è appunto un gioco multiplayer, vi unirete insieme a noi nei server e giocherete insieme a noi! Quindi nel caso... Quante volte insieme a noi? Tante! Quattro volte! Quindi faranno tante cose insieme a noi! Esatto! Si parte scegliendo il Pokémon! Ebbene sì, giocherò pure io! Sono pronta qua col mio cellulare, sono felicissima! Allora, la mia scelta è già ovvia! Io non so cosa sceglierei tu! Le animazioni sono troppo belle! No, è bellissimo! Io l'ho provato due secondini e me ne sto già innamorando, è davvero bello! Allora... Quale scegli? Dato che tu prendi Charmander... Certo, io lo amo Charmander! Dato che tu prendi Charmander, io sono indeciso tra Squirtle e Bulbasaur! Sto pensando cosa trovo più facilmente come Pokémon a livello selvatico tra uno d'erba e uno d'acqua! Secondo me è uno d'erba! Vero? Sì! Allora mi prendo Squirtle! L'acqua secondo me sono quelli che trovi dopo un po' di tempo, quindi probabilmente ti conviene. Come quelli di fuoco, li trovi sempre dopo un po'. Oh! Aspetta! Siamo già vicini! Dove sei? Ah, eccoci! Aspetta! Eccoci! No, non ci possiamo muovere perché dobbiamo seguire le prime missioni iniziali! Allora clicchiamolo in contemporanea! Vai! Sì, due, uno, vai! Ho cliccato! Io sono già partita, guardami! Ok, eccomi, eccomi! Guardami! No, è bellissimo! Ci sono già un sacco di player fantastico, guarda lì! Ta 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 ta! Sì, buongiorno Professor Rock! Sinceramente non ci interessa la sua storia! Non so bene perché in questo gioco ti danno subito anche un altro Pokémon! Mi hanno dato bello SOM! Livello 1! È troppo bellino! Oh, io sono felicissima! È carino! Pokémon gratis, carinissimo, pure d'erba! Oh, non mi lamento! Ma poi la cosa più figa, clicchi un tasto e il personaggio vada solo! Aspetta, qua Gary sta avendo una faccia un po' presuntuosa qui, è tutto felice che pensa che il primo scontro lo vince lui! Guarda chi ha! No! Il mio Pokémon preferito! Non è giusto! Si merita di prendere un po' di schiaffi! Allora, qua mi sta spiegando tutto quello che possiamo fare, interfaccia davvero bellissima, ma partiamo con gli attacchi! È bellissimo anche il col... con la vita bassa, insomma, ma che sembra! L'ho steso! L'ho steso con una testata! L'ho steso con una testata! Ed eccoci con una delle cose più belle in assoluto di questo gioco! Allora, questa... Oh, ci credi? Ci credi che è una delle cose che io ho sempre desiderato in tutti i Pokémon e che non hanno mai messo? Cioè, davvero, davvero! Allora, questa è la schermata del nostro bellissimo Pokémon! Con tutte le sue informazioni! Appena cliccherò questa X vedrete cos'è successo! Ma dai, ma c'è una persona in giro! Aspetta, aspetta! Clicco go così mi muovo! Ho Squirtle che mi segue in giro! Andiamo, Squirtle! Andiamo! Corri, Squirtle, corri! Hai visto come la goffo? Ho troppo bellini, non ci credo! Pensa quando avrei dei Pokémon fighissimi da metterti in giro! Mi si è chiuso il gioco! No! No! Rieccomi! Ce l'hai fatta, che bello! Ma c'è uno con un bufalo, con Taurus! Vabbè, ma... Ma lo vedi? Sì, ma poi c'è già uno con Guardtartle che sta girando qui in zona! Disgraziati! Perché siete qui per farci rosicare, vero? Disgraziati! Sì, allora dobbiamo ovviamente iniziare la nostra avventura, siamo appena usciti dalla nostra cittadina, a questo punto dobbiamo sfidare un sacco di allenatori che sono uno dopo l'altro, sarà una faticace incredibile, però almeno... Abbiamo appena livellato, quindi... Esatto, fa comodo per far salire i nostri Pokémon! Cosa... Ah, ok, vabbè! Stai dicendo di andare nell'erba alta per trovare dei Pokémon selvaggi, giustamente lo sappiamo tutti questo! Andiamo nell'erba alta! Lo sappiamo tutti! Chi trovi? Vediamo un po'? Eh, te lo dico subito... Vediamo! PJ! PJ! Penso pure io, perché questa è una missione, lo sai? Sì! Penso che poi dobbiamo donare il PJ a quel ragazzino che ce lo stava chiedendo! Ma io me lo voglio tenere, PJ! Soprattutto al 5, è bellino, è forte, mi piace! Comunque, un'altra cosa fighissima è che oltre alla cosa per farlo muovere automaticamente, c'è anche la possibilità di far combattere il personaggio da solo, così tipo, cosa ne so, vogliamo trovare un Pokémon nell'erba che è abbastanza raro, mettiamo l'autocombat il nostro personaggio costantemente combatte da solo, e noi dobbiamo soltanto stare lì ad aspettare che compaia! Comunque, vedi, mi piace, perché sì, è bello combattere, è bello andare a piedi, tutto quanto, però secondo me a lungo andare sono cose che un po' stancano tutti i giocatori, quindi sono contenta che abbiano cercato di renderlo meno fastidioso sotto questo punto di vista! Voglio farti vedere l'ultima cosa, poi ci focalizziamo nel giocare! Ok! C'è anche la velocità nel combattimento, tu la puoi velocizzare in alto, mettere il doppio della velocità e le animazioni e tutte le scritte sono più veloci, in questo modo il combattimento dura meno tempo ed è meno noioso quando, diciamo, la sfida è così facile come un livello 5 contro un livello 1! Esatto, in questi momenti sono davvero noiosi! Secondo me è quella che hanno colmato dei difetti davvero importanti di Pokémon! Eh, esatto, esatto! Hanno fatto davvero un lavoro figo, è davvero interessante e sono curioso di vedere come va avanti! Allora, cosa vuoi che faccia qua, scusami? Devo prendere il mio Pokémon dal party e farlo salire di livello! Per farlo salire di livello devo usare le Rare Candy, la caramella rara, che però in questo gioco praticamente riceviamo ogni volta che il nostro account sale di livello! Quindi praticamente noi una volta che saliamo di livello con l'account riceviamo delle caramelle e poi decidi con che Pokémon usare quelle caramelle! È molto particolare! È particolare, sì! Sì, ci dovremmo abituare a questa cosa! Caterpie livello 1 ti do una testata che te la scordi dopo domani, guarda! Bim! E infatti l'ho steso con un colpo! Non si dimenticherà facilmente! Ah, guardalo! Si surfa qua! Ti poncia! Continuiamo a fare soldi, a salire di esperienza, missione è completata, ci dà un sacco di roba, continuiamo ad andare avanti. Qualche Pokémon selvatico però? No, vabbè, ma ogni volta che vado avanti scopro altre cose bellissime! Siamo arrivati alla seconda strada, praticamente tu hai un reward, quindi una ricompensa, se riesci a catturare tutti i Pokémon che possono capitare in quella zona. Questo è quello che ci dà se noi riusciamo a catturare tutti i Pokémon di questa zona, ma non solo, praticamente, se noi guardiamo i Pokémon che ci sono nella zona, ci fa vedere, vedi, Weppinball, Nidoran, Hottooth, Azumarill e Caterpie, e poi guarda, Shiny PJ, ok? Leggi, appare tra le 10 e le 12, quindi... Hai anche gli orari, quindi... Hai anche gli orari! No, ma questo è un figato, cioè, te lo dico, il gioco della vita ha pure questo, cioè... Vero? No, hanno migliorato tutte le cose che io reputavo fastidiose nei vari Pokémon, quindi evidentemente non le pensavamo solo noi, queste cose, se poi hanno fatto un gioco così figo. No, è davvero bello, avete fatto benissimo a consigliarcelo perché è davvero, davvero figo, eh! Merita davvero di brutto! E io cammino costantemente nell'erbetta, vieni! Vediamo che Pokémon ci troviamo! Scatto? Ok! Dai qualcosa di bello, dai qualcosa di bello! Ok, mi piace! Hoot Hoot! Hoot Hoot! Oh, che bellino! Che c'è? Corretto! Lo faccio vedere? Guarda! Bellino! Carino, sì! Allora, vediamo se non ti stendo! Esatto, di non stenderlo! Il mio l'ho lasciato a tre di vita, quindi dovrebbe essere facilissimo da catturare, quindi una bella Pokéball normale e vediamo se ti acchiappo! Opla! Fai da bravo, eh! Uno! Due! Tre! Preso! L'hai deciso? Ha uno di vita! Uno! Ho rischiato tantissimo! E io l'ho lasciato a tre, in effetti! Ho rischiato tantissimo! Prossimo, vediamo se lo prendo! Guarda questo! Puoi decidere! No, vabbè, c'è! Me ne vado? Dimmi se me ne devo andare! Perfetto questo gioco! Ti fa vedere le abilità che ha, ok, tutte le sue statistiche e decidi se rilasciarlo o se tenertelo! Così se ti piace in tutto e per tutto te lo tieni, altrimenti lo molli! Mi sta dicendo di andare nel mio personaggio di Squirtle! Cosa devo fare? Li possiamo evolvere! Evolvere? E io confermo! Davvero? Io l'evolvo! Vediamo! Di già! Guarda! La faccio vedere anche la mia in contemporanea, si dovrebbe vedere! Io non la sto guardando per farla vedere ai consulini! Ma perché? Ma che figo! Ma poi guarda che animazioni fantastiche che hanno messo in sto gioco! Che fail! Dovevo cliccare sotto, non l'hanno ancora vista! Aspetta! Wow! E va beh, guardalo! Ma che cattiveria! Il mio ce l'ha fatta, sì, ce la sta facendo! Voglio farla vedere! War Tartal! War Tartal! War Tartal! War Tartal! Ok! Oh che bello! No, ma poi guarda già la destra Blastoise che te lo inizia a far vedere! Guardate ragazzi, c'è! Guardate! Che meraviglia! C'è la meraviglia fatta a Pokémon! Allora! Allora! Ascoltami un attimino! A parte che ho notato che in questo momento... Vini qua! Che c'è? Che così ci vediamo bene con Cermelion e War Tartal! Ah, è vero! Guardaci! Bellissimi! Che bellini! Ok, quindi continuiamo ad andare a picchiare! Dicevo che ho notato che i Pokémon che abbiamo catturato per adesso non ce li ha messi nella nostra squadra! Non ci hai fatto caso? Ma è vero, è vero! Sto guardando adesso solo quel Blossom... Blossom? Sì! Bellossom, scusami! Quindi sicuramente li dobbiamo anche mettere in squadra, ricordiamoci questa cosa! Io voglio far vedere l'animazione che fa il mio War Tartal quando fa Bubble! Perché anche le animazioni nel combattimento sono fatte davvero bene! Guardate! Sembra una doccia! Sì, una doccia, decisamente! Vedi, sono gentile, sono magnanimo, vado a fare la doccia a tutti i Pokémon! Ma siamo già fortissimi comunque col primo Pokémon evoluto, eh! Siamo già fortissimi! Infatti per ora l'unico difetino che io darei al tutto è che è troppo semplice! Troppo semplice l'evoluzione! Troppo semplice l'evoluzione, i primi scontri... Capite? Tutto fatto semplice, però... Spero che puoi migliori la difficoltà, perché in effetti non sappiamo come avre... Cioè, con cosa avremmo a che fare tutte queste cose! No, sì, secondo me è giusto per illugerti all'inizio! E poi comunque, tipo, per farti un esempio, essendo un gioco online potrai sfidare anche, appunto, altre persone! Eh, a voglia, a voglia, a voglia! E secondo te... Quelli sì che sono forti, eh! Esatto! Cioè, lì nessuno ha vantaggi, per nessun esemplificato... No, certo, certo! Ci si prende a botta e basta! Dopo aver sconfitto non so quanti Pokémon e quanti allenatori, siamo finalmente arrivati alla prima città! Sembra anche molto carina, però... No, vabbè! Che cosa hai visto? Una persona che stava cavalcando l'Apras! Come? No, vabbè, bellissimo! Me la sono persa! Aspetta, questa qua ci deve rompere le scatole? O possiamo muoverci? Allora, vuole qualche Pokémon, però vabbè, dai, adesso muoviamoci per i fatti nostri, poi pensiamo alla sua quest! Vieni, 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 vieni! Guardalo! Eh, vabbè! Che figata! Sei bellissimo! Sei bellissimo! Guarda cosa si può arrivare a fare, cioè non è possibile! Non pensavo anche cavalcarli, oltre che farti seguire! E poi qua ho visto uno Snorlax! Anzi, di... Perché è pieno di Snorlax qui? Cosa sta succedendo? Ma cos'è? Perché questi siano tipo allenatori che hanno fatto qualcosa, vedi che sono delle sorte di podi? Sì! Sembra un podio, cioè, è strano! Ma questo me lo tengo per me! No, vabbè, ma perché? Ti prego, non farmelo trovare! Ma ne ho trovato un altro carinissimo! Sentret! Che carino, guarda! Beh, gliel'ho pure uccisa, Gigli! Ma come l'hai uccisa? Nella serie! Se non è per noi, l'ammazziamo! Ma no! Vedi, tipo Spiru non mi piace, quindi è perfetto! Se volete Spiru ve lo lasciamo! Allora, su di te utilizzerò... Questo, vai! Ok! Guarda che carino! L'ho messo che mi segue e fa troppo ridere! Vai, sono riuscito a prendere la rapa volante! Mi ammazzeranno perché la chiamo così! Ti ha fatto dannare, ti ha fatto dannare! La piccola rapetta volante! Allora, sì, lo so, sì, lo so, sì, lo so! Finiti, sì, lo so! No, l'ho cliccato! Ok, ci sono! Dove sei tu? Sono iniziata ad andare verso la quest, quindi metti go e cammina! No, mi sto dicendo qualcosa dal trainer! Tipo... No, li ho già presi! Esatto, li ho già presi! Perché me lo stai dicendo adesso? Eccolo, eccolo, eccolo! Arrivo, 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 arrivo! Mi sa che combattiamo gli attenti qua dentro, così ce li curiamo, combattiamo... Non penso si possa combattere qui dentro! Certo! È un posto perfetto per combattere! Ok, perfetto, tutti a posto! Non so se c'è la musichetta, però io la faccio lo stesso! Perfetto! Allora, avvicinati! Ok! Guarda me negli occhi! Vedi? Versus! Eccati, arrivo! Terrivata? Eh, non so dov'è! Ah, challenge qui sotto! Ok! Ok, accetta! Sì! Ma qui le cose si fanno serie! Una fianco all'altro! Attenzione! Io sono prontissima! Prontissima! Ne abbiamo solo due, giusto? Abbiamo solo uno! No, vedi che abbiamo solo... Perché? War turtle versus chermillion! Ma dai, ma... Cioè, così ho troppo vantaggio! Eh, lo so! Vabbè! 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 Ti spacco la faccia! Prova a zaccarti questo! Proprio detto così! Boh! Ehi! 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 Stai calma! Ti farei malissimo! No, sono già morta! Ti faccio la doccia! Ma sono già morta! Sento puzza di chermillion! Ma sono già morta, cioè! Doccia per ferenichi! È una tristezza! L'hai fatta apposta a prendere squirto! Guarda! L'hai fatta apposta! È stata molto semplice! Perché se io prendo sempre Charmant! Niente! Non posso usare un altro Pokémon! Ah, sì! Così lo seleziono però! Come? Praticamente lo metti! Eh, su... Modify! Lì giù! Vedi? Ok! Sette di selezioni! Ah! Prepare! Facciamo Bellosom contro Bellosom! Solo Bellosom! Senza... Ok! Charmillion e War turtle! Mi piace! Vai! Vai! Vediamo chi vince! Le big sfide con tantissimi Pokémon! Una scelta proprio... Chi sarà il Bellosom migliore? Lo dobbiamo scoprire! Bellosom versus Bellosom! Vai! Vai! Allora, questa è una sfida molto importante! Si merita un per uno di velocità! Ti faccio una Petal Dance! Una Pedal Dance! Io ti faccio una... No, Petal! È la danza dei Petali! Io ti faccio una Stansport! Mi hai fatto malissimo tu! Eh sì, perché io sono fortissima! Ma come ti permetti? E adesso ti faccio... Aia! Eh, vedi? È un ballerino nato! Allora, Absorb! Absorb! Cosa sta succedendo? Io non ho capito cosa succede! Io a un certo punto non ho fatto le mosse, ma li ha fatti lo stesso il mio personaggio! Sì, anch'io, anch'io non ho capito perché! Vabbè, vai, vai! Ho vinto stavolta, sì! Dai, mi sembra giusto uno a uno! Sì, vabbè, ma... Eh, abbiamo qua, appena detto e deciso, che il mio e il bello sono più forti! Ok, quindi è proprio confermato ufficialmente! Che fortuna! Grazie! Grazie utilità! No, a me piace molto! Ok! Sono felice di averlo come Pokémon, quindi... Te lo atterrai per sempre? Sì, sicuro! Sicura? Sì, sì! Bellissimo! Te ne pentirai presto, secondo me! Non credo! Secondo me in questo gioco trovi i Pokémon leggendari dopo due giorni! No, no, non lo so! Non so come sarà, esatto, non so che Pokémon si troveranno! Sicuramente adesso in questa città dovremmo anche fare la prima palestra perché un po' mantiene la storia dei Pokémon originali, quindi ci saranno tante, tante cose da fare e da scoprire! Esattamente! Comunque per questo episodio ci fermiamo così, dovete assolutamente farci sapere se volete che sia questo il gioco per, diciamo, le live del martedì e del giovedì! Quindi ricordatevi, non video le live, lo continueremo nelle live nel caso vogliate vedere Abbiamo deciso di farci un video giusto perché così ve lo mostravamo a tutti e poi decidete voi se appunto lo volete in live, altrimenti abbiamo tanti altri giochi che abbiamo pensato per le live, quindi se non è questo comunque sarà qualcos'altro! Quindi, sondaggio, likes, commenti, balletti, foto su Instagram! Fate la Petal Dance anche voi! Esatto! Foto su Instagram dove fate la Petal Dance! Esatto, sì, mandatemela la Petal Dance, fatevi un video e mandatemela su Instagram! Non lo fate, vi prego! No, fatelo, vi scongiura! Bene che ti riesco a dire, se ci stessi, sentici un like! E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, e alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!